Pubblicizzare e dare maggior risalto agli eventi tipici proposti dalle Proloco dell'intera provincia dell'Aquila. Questo è filo conduttore dell'accordo siglato fra l'UMPRI, l'Aquila e l'Associazione Culturale Valle Pelini e in Tasca. Le associazioni Proloco coordinate dall'Unione Nazionale delle Proloco potranno soffrire gratuitamente dell'innovativo sistema di divulgazione messo a disposizione da Valle Pelini e in Tasca. Si tratta di un deprian cartascio stampato in 15.000 copie che condiene tutti i principali eventi estivi del centro Abruzzo. La distribuzione verrà effettuata presso i maggiori centri di interesse turistico, strutture ricettive, punti di accesso alle città, quali stazioni ferroviarie, casegliero stradali, aeroporto d'Abruzzo, ma anche su un sito web molto seguito e persino tramite smartphone. Il presidente provinciale UMPRI, Raffaele Di Santi, in accordo con il Consiglio provinciale, ha firmato l'accordo e ha espresso grande soddisfazione nel poter rimarcare il ruolo delle Proloco come custodi delle tradizioni del patrimonio culturale immateriale che devono essere costantemente tutelati e valorizzati con iniziative come questa. La presidente di Valle Pelini e in Tasca, Carla Di Benedetto, rimarca che il fare rete sul territorio è uno degli obiettivi principali ed è per questo motivo che l'intesa con l'UMPRI L'Aquila rappresenta per l'intera associazione Valle Pelini e in Tasca un importante passo avanti nella mission di coesione territoriale attraverso la cultura e il turismo. Riteniamo che sia fondamentale, proprio in un periodo difficile come questo, per la nostra regione, così colpita da eventi negativi, di mettere in campo ogni sinergia per dare un segnale forte e concreto di slancio per la nostra economia, partendo proprio dall'identità delle piccole ma importanti realtà che le Proloco rappresentano, rimarcano entrambi.